Giorni di sole, mare, foot volley e divertimento con momenti di spettacolo e sfide sulla sabbia. La Bobo Summer Cup presentata da Dazni Fattappabari. Il torneo di foot volley organizzato da Bobovieri e Starson Field si svolgerà fino a domenica nel capoluogo pugliese e sarà l'appuntamento clou del weekend. Teatro dell'evento sarà il Lido San Francesco all'Arena. Come da programma alvia il torneo amatoriale con la partecipazione di 32 squadre inserite in un tabellone a eliminazione diretta. La squadra vincitrice del torneo sfiderà domenica pomeriggio il team di Bobovieri. Un divertimento, ritrovarsi con gli amici, far divertire il pubblico, fare sport. Basta, tutto lì, come da due anni da questa parte. È un ritrovo, far divertire la gente, far vedere la gente che torneo è, far vedere la gente, tanti ex calciatori. Quindi tutto lì, niente di speciale. Poi, mentre c'è il torneo, facciamo anche beneficenza. Per me è la cosa più importante. Quindi, come ho detto prima, domani c'è questa cena di beneficenza. Faremo anche un'asta e tutto ricavato andrà in beneficenza. Il calcio è lo sport più importante del mondo, più bello del mondo. Quindi, quando parli di calcio, la gente impazzisce. Da sempre e succederà per sempre. La squadra come il Bari deve stare sempre in Serie A. Ha un pubblico sempre con 40-50 mila, stadio, forse il stadio proprio all'Italia. La gente merita una squadra in Serie A, sempre. E una città come Bari merita di avere una squadra in Serie A. Purtroppo non è facile e speriamo che riesca a ritorno su. Ma abbiamo la nostra squadra che è lo United Sly, che tra qualche anno arriverà in Serie A. Grazie. 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 Grazie.